Per conquistare una montagna, non serve possederla. Per dominare un'onda, non devi diventarne padrone. Per vivere un'auto unica, non serve comprarla. Scegli Y-Buy per guidare oggi una BMW X3, anche senza acquistarla. Personalizza il canone scegliendo i servizi da includere e scopri Y-Buy anche su tutta la gamma X. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW, sabato 16 e domenica 17. Grazie a tutti.